Musica Sono Dario Nepoti di Smart Ground. Smart Ground è una piattaforma di servizi che va a integrare determinate tecnologie a quello che è il territorio agricolo. Cos'è che fa nell'inesattezza? Mediante una moltitudine di sensori, che possono essere quelli legati all'umidità, che possono essere quelli legati alla misurazione della temperatura, va a creare dei monitoraggi che dopo, mediante algoritmi attivi, vanno a dare delle indicazioni, quali previsioni, quali previsioni sul raccolto oppure sulla malattia all'agricoltore. Qui noi in pratica andiamo a creare una piattaforma dove l'agricoltore, in base alle caratteristiche specifiche della sua azienda, ci va a compilare una scheda sulle sue esigenze e sulle sue problematiche. E noi, mediante degli studi che vanno incrociare dei modelli matematici e delle esperienze legate all'agraria, diamo dei consigli su come posizionare dei sensori, su che tipo di sensori dare. E poi nasce il rapporto tra quello che è la piattaforma di Smart Ground e quello che è l'agricoltore, che in ogni momento potrà andare a monitorare la propria pianta, andare a capire se sta andando incontro a delle malattie o semplicemente se ha bisogno di essere innaffiata. E noi vorremmo dare un supporto a tutti quelli che hanno deciso oggi di ritornare a una cultura biologica, a una cultura che sia, da un punto di vista sano, ma comunque che sia vicino alla natura.